You wheelers buah a tutti e bentornati sul canale come sempre qui è il vostro alas che vi parla piacere di rivedervi siamo qui per l'episodio numero 86 della nostra carriera su motorsport manager dedicata alla one in one racing team guidata dalla sadramson gp di suzuka giappone round numero 17 ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio il round numero 16 gp di singapore cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio l'ultimo round lo potete vedere anche dal titolo mi ha fortemente deluso il risultato è stato appena fuori dalla zona punti ma sinceramente non sono felice delle prestazioni di entrambi i piloti ma soprattutto di max verstappen mi sta fortemente deludendo soprattutto per le partenze sta peccando completamente in quasi tutte le gare per non dire in tutte le gare sulle partenze perde tantissime posizioni che poi deve andare a recuperare perde tantissimo tempo secondo me in questo momento il potenziale della vettura con un max al top della forma potrebbe essere una p5 non dico per ogni gara fisso ma più o meno la p5 nelle gare che magari ci possono favorire un po di più e questo risultato comunque non lo stiamo raggiungendo a singapore mi aspettavo quasi un doppio arrivo a punti e invece siamo arrivati totalmente fuori soprattutto per via degli errori di max verstappen detto questo ragazzi speriamo che soprattutto il nostro pilota olandese riesca a rifarsi nelle prossime gare perché è veramente un peccato e soprattutto sto valutando se provare ad offrirgli un rinnovo per la prossima stagione oppure se andare a sostituirlo con un altro pilota saranno valutazioni che faremo comunque alla fine della stagione io vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace per supportare la serie ovviamente commentate qui sotto come al solito con il pronostico riguardante la prossima gara circuit of the americas stati uniti gran premio che teoricamente da un certo punto di vista dovrebbe favorirci ma non è sicuramente il meglio per noi lasciate un commento qui sotto col vostro pronostico e ovviamente lasciate anche una bella iscrizione se naturalmente vi piace questa serie e nel caso cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale detto questo clicchiamo su continua shell è il nostro sponsor prove libere qualifiche sotto il diluvio gara serena quindi valuteremo quali sono le gomme migliori da utilizzare però al momento io direi di scegliere come sempre 10 treni di super morbide 5 di morbide 5 di medie anche se presuppongo che la strategia migliore sia o due treni di gialle per la gara oppure addirittura dipende dall'usura una gomma rossa e una gomma gialla montatura dei componenti già effettuata anzi direi di andare a dare un'occhiata se abbiamo tutto in ordine tutto in perfetto ordine quindi scendiamo in pista per il venerdì di prove libere in pista pronti per le prove libere qui a suzuka che iniziano sull'asciutto ma arriverà prestissimo la pioggia quindi potremmo fare praticamente un solo giro e andiamo a selezionare max overstop e nevito freire e andiamo a modificare il setup delle vetture gomma rossa per vito gomma gialla per max proseguiamo scendiamo in pista li mandiamo immediatamente entrambi in pista assetto da qualifiche quindi tre giri per per vito freire anche se probabilmente durerà un solo giro il suo stint assetto da qualifiche anche per max verstappen direi di cambiare già lui in assetto da gara di modo da avere già la modifica effettuata scendiamo in pista un giro molto probabilmente e staremo già rientrando per modificare le gomme montare le intermedie noi naturalmente ci rivediamo direttamente per l'inizio del cuono ed eccoci pronti per il cuono si inizia col sole conoscenze abbastanza bene livello 2 su tutte le gomme che abbiamo sviluppato gomme super morbide gomme morbide gomme intermedie livello 3 su assetto da qualifiche assetto da gara gomma rossa e assetto da qualifiche direi la nostra scelta arriverà la pioggia quindi dovremo scendere subito in pista setup per entrambi i nostri piloti al 99 per cento ecco a voi la conferma quindi proseguiamo prendiamo parte le qualifiche e immediatamente mandiamo in pista entrambi i nostri piloti prima che scenda la pioggia sta andando a tagliare il traguardo mick rincorso dal compagno di squadra mick schumacher a 5 decimi da max verstappen eppure mick aveva fatto un primo settore migliore del suo compagno di squadra pur cher però sta arrivando a distruggere tutti arriva arthur leclerc e arriva ora la pioggia quindi molti non riusciranno a migliorare il nostro tentativo schumacher davanti a vesti quindi ciò conferma che ha fatto un buon giro pur cher alla fine arriva due decimi da arthur leclerc che ha fatto un ultimo settore pauroso ma dovremmo essere in grado di passare il turno con entrambi i nostri piloti eliminati nel q1 grandi sorprese landon orris george russell e poi timo bernard robert gewartzman e carlos sainz passiamo in sesta con verstappen in undicesima con mick schumacher prendiamo parte al q2 e stavolta si inizia sotto il temporale sotto il diluvio aspettiamo alla fine della sessione perché la pioggia si calmerà allora praticamente tutti i piloti hanno fatto un giro con la con la wet con la gomma wet sta riuscendo leclerc io direi di uscire con la gomma rossa non dovremmo avere problemi a passare il turno forse potremmo andare con la gialla ma teoricamente dovremmo liberarci perché dalla regola perché comunque il q2 è stato sotto regime di pioggia e comunque la maggior parte esce con la gomma soft qualcuno però sta ancora rientrando rischia di essere battuto nettamente qualcuno e tra questi c'è novalac che è rientrato ora e probabilmente non fa in tempo a riuscire quindi vediamo vediamo perché potremmo forse passare il turno anche in questa condizione mick schumacher a 8 decimi dalle clerk award lontanissimo quindi mick schumacher in seconda battuto da max verstappen di 5 decimi quindi passiamo nella q3 teoricamente dovremmo essere tranquilli di poter montare la gomma gialla in partenza in caso di partenza con l'asciutto attenzione perché ci sono grossissime sorprese ancora una volta tra gli eliminati charles clerk enzo fittipaldi clement novalac guanyo zo e caio collè e si sono salvati colton hertha sergei sirotkin e tio purcher perché hanno fatto comunque il giro con la wet mentre i primi sette hanno tutti tentato il giro con la soft quindi ora possiamo giocarci un'ottima posizione nel q3 per la partenza di domani prendiamo parte il q3 si inizia col sole andiamo subito a valutare il meteo perché pioverà prestissimo quindi prima usciamo in pista meglio è andiamo subito anche con max gomma rossa e scendiamo in pista perché probabilmente poi ci sarà pioggia fino al termine della sessione quindi prima usciamo prima abbiamo la possibilità di fare un buon tempo mic va a tagliare il traguardo davanti a max verstappen che però accorciato verstappen in prima due decimi di vantaggio su schumacher sta arrivando le clerk poi arrivano sirotkin e hertha che dovrebbero riuscire tutti a batterci e infatti è così siamo in quarta con verstappen però sta arrivando vesti che è dietro mic arrivo ward che è dietro mic e vediamo pur chair che ci batte va in seconda nonostante la pioggia quindi quinto verstappen sesto schumacher piastri nona su nodan non dovrebbe batterci rimane in decima e la pioggia diminuisce alla fine della sessione ma non abbastanza quindi dovrebbe essere questo il nostro piazzamento quinto max sesto mic terza fila tutta one in one racing team io quasi quasi all'ultimissimo secondo direi di provarci abbiamo gomme per provarci montiamo la rossa non so se riusciremo a tagliare il traguardo perché c'è ancora pioggia in pista quindi forse siamo usciti anche troppo tardi vediamo se ci riusciamo un 1 e 20 e la il tempo per terminare il giro probabilmente è troppo tardi ma vediamo perché comunque questa dovrebbe essere la conferma per noi perché tutti sono scesi in pista con la intermedia probabilmente è una pista troppo bagnata per poter raggiungere la il l'inizio del giro però vediamo vediamo attenzione forse mic riesce max no si riescono entrambi l'abbiamo calcolata la perfezione incredibile forse possiamo migliorare il nostro tentativo purtroppo non ci riusciamo siamo in ritardo la pista non ha aderenza in questo momento quindi niente da fare peccato perché avevamo calcolato alla perfezione il momento per uscire per scendere in pista quindi ci dobbiamo accontentare della terza fila prima fila tutta Ferrari Arthur Leclerc davanti al compagno di squadra Theo Purcher Colton Herta in terza Sergei Sirotkin in quarta poi Verstappen Schumacher terza fila tutta 1 in 1 Racing Team Pato Ward in settima Vesti Piastri Tsunoda questa la top 10 poi Charles Leclerc Enzo Fittipaldi Clement Novalac Juan Yuzou, Caio Colle, Lando Norris, George Russell, Timo Bernard, Robert Schwarzman e Carlos Sainz proseguiamo e scendiamo in pista per la gara si parte con tempo asciutto e possiamo scegliere la gomma che preferiamo quindi è così la scelta vediamo cosa dice il meteo il meteo dice che sarà molto lunga prima dell'arrivo della pioggia io quasi quasi addirittura partirei con la gomma hard per andare più lunghi possibili però a questo punto direi media e cerchiamo di gestirla per quanto possibile andiamo a montare la gomma gialla che dura dei 25 e 27 giri mentre la media probabilmente arriverebbe quasi a fine gara per quanto riguarda il carburante lasciamo il massimo carburante possibile perché tanto lo utilizzeremo cercheremo di andare quanto più lunghi possibile con questa strategia non voglio avere limitazioni per questo gomme morbide e assetto da gara chissà se effettivamente ci sarà pioggia perché in effetti il meteo diceva che sarebbe stato asciutto tutta la gara quindi vediamo vediamo di andare naturalmente all'attacco modalità motore sorpasso e speriamo che per una volta la strategia possa essere la partenza soprattutto possa essere buona eccoci in pista terza fila per la one in one racing team le luci si accendono cinque luci che si spengono parte il gran premio ancora una volta verstappen parte malissimo però mic parte bene e super del compagno di squadra purtroppo max passato anche dal pilota dell'alfa tauri cerca comunque di difendersi e riesce per ora a fare un po da tappo nei confronti di piastri però piastri riesce ad infilarsi deve chiudere la traiettoria max verstappen deve cercare di chiudere la traiettoria ora ce la fa prende prova anzi a prendere nuovamente la posizione nei confronti di mic schumacher benissimo vedete partire con due vetture lì perché comunque se max parte male c'è mic schumacher subito pronto a coprirlo andiamo subito modalità al massimo per cercare di gestire l'usura della gomma continuiamo a spingere sul carburante mic schumacher ora sotto pressione da piastri che è partito bene zo è partito benissimo recuperato già in ottava con le clerk in nona max verstappen deve cercare di scappare con mic che più fa da tappo meglio è attenzione a zo che attacca piastri si prende la posizione anche nei confronti di mic schumacher che resiste resiste all'esterno mic schumacher max per ora non riesce a prendere di stacco ora mic schumacher deve cedere la posizione al pilota dell'alpine però ci prova andiamo a seguire mic perché sta resistendo alla grandissima sta cercando di dare la possibilità a max di scappare ancora all'esterno mic schumacher e allora lo facciamo attaccare però ora la perde la posizione quindi non andiamo così tanto all'attacco anzi in neutrale max purtroppo penso che verrà passato molto facilmente da parte di guanyo zo io spero che mic schumacher riesca per quanto possibile a tenere la posizione sui piloti dietro di lui per cercare una strategia che lo porti più lungo possibile zo è una vettura velocissima probabilmente è considerato il primo pilota in questo momento addirittura nei confronti di george russell mic schumacher si è avvicinato mentre i primi quattro ora hertha è riuscito a passare in vetta pur c'era passato artur leclerc che è sceso in terza e per ora hertha fa un po da tappo e quindi il quartetto di testa è ancora molto unito guanyo zo ha fatto il giro veloce dopo aver passato max max che non riesce a scappare in questo momento mic schumacher riesce tranquillamente a tenere il passo del compagno di squadra la forma è 4.3 contro 9.7 forse sta incidendo tanto quello però stanno riuscendo piano piano a scappare perché piastri sta facendo da tappo nei confronti di charles clerc quindi più riusciamo a prendere il passo nei confronti degli altri piloti più forse riusciamo a garantirci una buona posizione appunti magari con entrambi i nostri piloti dobbiamo andare più lunghi possibili questo sicuro guanyo zo ha la nostra stessa gomma però dietro piastri e leclerc hanno la nostra stessa gomma quindi più li manteniamo dietro più la nostra strategia andrà a buon fine attenzione perché zo è bloccato dietro sirotkin non riesce a passarlo e più davanti c'è hertha che è comunque molto vicino max è riuscito a riprendere zo e sta arrivando anche mic schumacher quindi se riusciamo ad approfittare della situazione ad andare magari in modalità attacco a passare zo e poi riuscire a passare sirotkin che ha una gomma molto usurata comincia ad essere molto usurata la sua rossa possiamo pensare di provare a scappare nei confronti di zo vediamo se riusciamo a fare qualcosa ci diamo uno barra due giri massimo di possibilità per fare questo e poi ci rimetteremo a gestire la gomma perché leclerc dietro con novalac sono riusciti a passare quindi dobbiamo cercare di scappare max è riuscito a passare zo però attenzione zo arriva all'attacco mic schumacher sta provando ad approfittarne max è lì con zo stanno provando a lottare per prendere la posizione i nostri due piloti max esce forte max esce forte si prende l'interno e ora è il momento subito di gestire di andare a raffreddare le gomme se mic riesce a passare zo questo ci potrebbe garantire una una buon tappo da parte di mic per che ci prova all'esterno ci prova all'esterno mic non riesce bravo zo a coprire la traiettoria ma è sotto attacco è sotto attacco mic schumacher ci sta provando con max che cerca di mantenere la scia di sirotkin mic schumacher ci prova è veloce però zo sul dritto l'alpin di zo è molto veloce ci prova all'interno bravo mic bravo mic che si prende la posizione e ora continuiamo in modalità sorpasso sul motore e cominciamo a far raffreddare le gomme importantissimo sarebbe ora riuscire in qualche modo a prendere la posizione nei confronti di sirotkin che comunque in uno due giri penso che vada a fermarsi si sta fermando sirotkin quindi ora forse riusciremo ad esprimere il nostro passo pur cher sale in vetta con le clark che si ferma ed è dietro di noi le clark che monta gomma media vediamo se c'è possibilità di pioggia no è tempo asciutto in maniera totale mic schumacher ha perso nuovamente la posizione nei confronti di guanyu zo anche se cerca di rimanere il più vicino possibile ora sarebbe fondamentale riprenderla quella posizione ma abbiamo una gomma al 40 al 44 per cento zo la sta gestendo meglio sarebbe fondamentale ora andare andiamo in sostegno andiamo in sostegno proviamo a farla raffreddare per farla durare quanto più possibile per non trovarci mischiati nel traffico dobbiamo calcolare con max all'incirca 10 secondi 12 secondi in questo momento saremo in lotta con fittipaldi e russell se riuscissimo a stare davanti a fittipaldi e russell questo sarebbe veramente fondamentale per non avere il traffico di piloti che hanno gomma media usata attenzione schumacher ora è sotto attacco dalle clark e da nova lac sarebbe fondamentale mantenere quella posizione però in questo momento dobbiamo cercare di gestire andiamo in risparmio con mic schumacher la facciamo raffreddare piano e anche quella di max verstappen che in terza e sta cercando di mantenere il passo di colton hertha che è una gomma rossa piuttosto usurata ma davanti pur c'era una gomma ancora più usurata bloccaggio per dio pur c'era che sta arrivando praticamente cotto e dovrà effettuare il suo p-stop sicuramente alla fine di questo giro rientra ora i box mentre colton hertha presuppongo che continui infatti hertha continua mentre max verstappen continua ugualmente e cerca di accorciare sta accorciando nei confronti di colton hertha con mic schumacher che per ora tiene dietro nova lac gomma media per clement nova che andrà lunghissimo ora sotto attacco dei due leclerc arthur leclerc sta perdendo tantissimo tempo dietro i piloti di red bull e mclaren mic sta facendo un miracolo a tenerli dietro per ora attenzione l'attacco di nova lac nei confronti di mic che prova a resistere prova a resistere mic ma non riesce andiamo nuovamente in sorpasso per posizione persa non possiamo lottare contro di loro si ferma hertha max verstappen sale in prima posizione speriamo ora riesca in prima posizione a riuscire a gestire il proprio passo a fare il proprio passo zo si sta avvicinando ma non ci interessa andiamo più lunghi possibili cerchiamo di gestire questa gomma anche se zo ci dovesse passare perché poi cerchiamo di non trovare traffico abbiamo 14 secondi di vantaggio nei confronti di fittipal di 13 e 4 su piastri vediamo se ci fermiamo ora cosa potrebbe succedere con max monteremo gomma rossa opzioni carburante naturalmente andremo a caricare all'incirca una decina di giri di carburante ne mancano 16 alla fine andremo sui 17 per lo meno con condizione di ci dice che saremo in undicesima dietro lando norris quindi dobbiamo continuare a spingere per cercare di mantenere la posizione e cercare di guadagnare quanto possibile nei confronti degli altri max è attaccato da zo e leclerc contemporaneamente ora veramente zo è minacciosissimo andiamo in neutrale e lasciamo in modalità motore alta ma penso che zo ci passerà così come ci passerà leclerc siamo veramente sotto grande pressione sarebbe ottimale fare ancora uno due giri con questa gomma ora dobbiamo cercare di uscire forte qui per provare a evitare il sorpasso da parte di guanyo zo che sulla nostra stessa strategia ha una vettura molto più veloce guardate come si affianca e naturalmente arriva il sorpasso e ora ci passerà anche arthur leclerc zo passa invece leclerc no per ora leclerc no ma allora continuiamo a spingere con anzi andiamo in risparmio e in alta ci facciamo passare da arthur leclerc e poi faremo il p stop mick schumacher direi di farlo fermare alla fine del giro perché ha una condizione gomma veramente al limite lo facciamo fermare gomma mancano 12 giri alla fine quasi quasi montiamo la super morbida per avere un po più di di vantaggio per la gomma di mescola più morbida 12 giri dovremmo gestirle tranquillamente direi di andare a 11 12 giri di carbonante in più 14 giri quindi e ne avremo per anzi andiamo a 13 giri strategia del p stop andiamo di bilanciata senza rischiare troppo mentre con max continuiamo un ulteriore giro proviamo a difenderci da novalac che a gomma media stiamo facendo una grandissima gara in questo momento una veramente una buona gara da parte dei nostri piloti quando non abbiamo traffico riusciamo veramente a difenderci ora spingiamo al massimo con max andiamo in modalità motore al massimo modalità motore massima sorpasso stile di guida al massimo per provare a difenderci da dal pilota dietro di noi da novalac e montiamo anche con max gomma rossa opzioni carburante andiamo di possiamo andare di 11 giri e la gestiamo proviamo a gestirla e quasi quasi andrei di sicura però è bilanciata bilanciata e la rischiamo in maniera un po più accentuata rispetto alla sicura nessun problema per mic schumacher che però rientrerà molto indietro forse riesce a rientrare davanti a science sarebbe fondamentale uscire di fronte a science che invece ci passa tredicesimo science quattordicesimo mic che va in neutrale e in modalità motore sorpasso speriamo riesca effettuare il sorpasso su science per poi esprimere al meglio il suo passo mentre con max ci fermiamo alla fine del giro andiamo ora a forzare al massimo con max per cercare magari di ricucire il gap zo penso che continui almeno un altro giro e poi rientrerà e monterà forse gomma gialla lo è si zo continua quindi speriamo in un possibile undercut se riuscissimo ad uscire di fronte a quel gruppetto max potrebbe pensare di forzare al massimo di spingere al massimo nessun problema no problema al pit un secondo e con questo stiamo dietro tutto quel gruppetto ma siamo davanti a mic e a carlo science speriamo che max riesca comunque ad esprimere il suo miglior passo un secondo perso che comunque non ci avrebbe garantito di stare davanti nei confronti di tutti gli altri si è fermato zo che però riesce esce davanti a max peccato però è dietro il gruppo quindi forse possiamo cercare con zo che magari perderà un po di tempo è montato gomma gialla potremmo pensare di riuscire a ricucire lo strappo e giocarci una quinta posizione per questa gara max è riuscito a passare science quindi si è preso la posizione e ora spinge al massimo per cercare di ricucire nei confronti del compagno di squadra là davanti si dovranno ancora fermare novalac le clerk che però probabilmente forse le clerk no ma novalac sarà davanti a noi mentre per quanto si ferma novalac attenzione si ferma novalac vediamo in che posizione esce dovrebbe uscire davanti ha già finito il suo pistop attenzione perché anche charles clerk forse esce davanti anche charles clerk attenzione no max in lotta stava lottando con novalac forse li prende la posizione bravissimo max però resiste novalac resiste novalac max ci prova max ci deve provare con mic che è dietro charles clerk che ha fatto un ottimo overcut ottimo overcut da parte di charles clerk science si ferma per il suo pistop purtroppo max deve desistere dall'attaccare novalac dobbiamo gestire le temperature e anche il carburante mancano otto giri alla fine dobbiamo gestire il carburante con entrambi i nostri piloti max sotto pressione è arrivato charles clerk forse la gomma gialla sarebbe stata la scelta migliore charles più veloce di max in questo momento che sta cercando di gestire le temperature e non abbiamo carburante per spingere troppo dobbiamo rimanere in alta ne ha qualcosa di più mic che però sarà sotto pressione a breve da george russell vediamo se riusciamo a difendere le nostre posizioni sarebbe un utilissimo arrivo doppio a punti per noi ma charles è veramente tanto tanto veloce dietro max è incollato è incollato charles ma sta iniziando l'ultimo giro andiamo in modalità motore alta dovremo arrivare in fondo e spingere al massimo sulla gomma con entrambi i nostri piloti mic schumacher ha un po di vantaggio invece nei confronti di russell vediamo max se riesce a difendere la posizione charles è pericolosissimo andiamo a per 4 di velocità per velocizzare questo giro per ora riesce a tenere un leggerissimo vantaggio ma chissà che non dobbiamo andare a gestire andiamo ora in media in questa zona un po più lenta prova la staccata charles ma non riesce andiamo in alta ora con max che forse è riuscito a prendere quei metri che gli servono e poi sergei sirotkin ha finito il carburante attenzione e riesce a passare max con mic schumacher che si tiene la nona posizione per poco non si ne valottava finalmente finalmente siamo arrivati a un buon risultato nuovamente sesto max verstappen nono mic schumacher le qualifiche si sono fatte sentire sicuramente perché verstappen ancora una volta con una brutta partenza ma poi è riuscito a riesprimere il suo passo ma che sorpresa mic sta arrivando al livello del suo compagno di squadra dopo i gap abissali che aveva avuto nelle passate gare ora arriva a soli due secondi e mezzo dal compagno di squadra controlli da parte della fia per noi nessun rischio di infrazione nessuna regola infranta max verstappen in sesta mic in nona con arthur leclerc che vince ma il giro veloce va a dio purceri in seconda clement novalac grande rimonta in terza posizione con colton hertha in quarta guanyin zo in quinta max verstappen in sesta charles clark in settima sergei sirotkin in ottava mic in nona posizione george russell in decima con enzo fittipal di landon orris oscar piastre pato ward frederick vesti carlos sainz robert schwarzman yuki tsunoda caio colle e timo bernard per completare l'ordine di arrivo max 86 punti si riavvicina a sergei sirotkin ma si allontana guanyin zo quindi max è a meno 11 da guanyin zo per la settima e a meno 7 da sergei sirotkin per l'ottava mic rimane in tridicesima posizione a quota 18 punti proseguiamo alla classifica costruttori 104 punti per la guanyin racing team che allunga sull'alfa tauri ormai direi che ci siamo assicurati la sesta posizione difficile lottare per la quinta con mercedes perché ha 46 punti di vantaggio torniamo alla nostra dashboard ed eccoci al resoconto scuderia aumenta il morale di mic schumacher già al 100% quello con quello di max verstappen che in competizione con guanyin zo al momento contento il nostro presidente jim farley quindi proseguiamo meno un milione 329 mila euro in questo fine settimana meccanici ai pit stop primo compito andiamo a vedere le possibili assunzioni non abbiamo profili interessanti nessun tipo di profilo interessante quindi li rifiutiamo tutti e andiamo a modificare la squadra per il prossimo gran premio questa sarà nostra squadra meccanici per il prossimo gran premio andiamo ai messaggi di posta abbiamo subito un'intervista con martin brandl la gente di guanyin zo ripete da tempo i cronisti che intenzioni di ingaggiare il suo cliente per la prossima stagione è vero no guanyin è un pilota che in lotta con max e in questo momento sinceramente non credo di poterlo considerare all'altezza della nostra scuderia stavolta andiamo giù duri nei confronti di guanyin zo e in competizione max verstappen proprio con lui messaggi di posta dovremmo averli letti tutti ora sì quindi proseguiamo al miglioramento della nostra vettura progettazione del cambio terminata andiamo subito a montare il nuovo componente anche se non credo che andremo a montarlo vediamo di che livello è sì è comunque migliore di quello originale anche se non è al livello del migliore in assoluto quindi lo montiamo a mic progettiamo un nuovo componente abbiamo il motore al sesto posto il cambio sempre al sesto posto ovviamente un freno al sesto posto siamo sotto la media quinto posto per per l'alettone posteriore quindi la scelta è tra un freno oppure un altro cambio io direi di continuare con il miglioramento del cambio visto che qui che siamo che forse pecchiamo un po tra tre giorni abbiamo il gp del secret of the americas tra dieci giorni il gp di mexico city tra 24 giorni speriamo che arrivi per interlagos vediamo se riusciamo a organizzare l'arrivo del nuovo cambio per interlagos arriverà quattro giorni prima della gara di interlagos probabilmente non lo andremo ad utilizzare perché è basso di attuali prestazioni dovremo migliorarlo tanto è anche un elemento di rischio quindi dovremo valutare se utilizzarlo o meno 927 mila euro poi sicuramente avremo un ulteriore cambio da dover sviluppare per montare gli elementi leggendari messaggi di posto abbiamo la costruzione del cambio terminata proseguiamo nel nostro calendario abbiamo un dilemma problema riscontrato con l'eco quindi dovremo spendere ho rilevato un problema nel caso perderemo meno uno di consumo carburante ma spendiamo questi 500 mila euro che diventano 475 mila euro una spesa che possiamo permetterci e arriviamo direttamente al fine settimana di gara circuit of the americas round numero 18 della stagione ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un bel mi piace commentate qui sotto ovviamente ricordatevelo pronostico della gara del circuit of the americas round numero 18 della stagione e ovviamente iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti io vi ringrazio per la visione l'appuntamento ve l'ha appena dato quindi alla prossima ciao willers ciao 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 ciao